Beh sì, io Sergio l'ho visto nascere e suo papà correva con me nei car quando avevamo 14 anni, per cui è una vita che ci conosciamo. Sono venuto qui perché mi faceva piacere esserci a vedere il debutto di questo ragazzo su una Formula 1. L'ho un po' seguito attraverso il mondo del kart e poi in questi tre anni di Formula 3. Da lontano, però ero sempre presente a sentire i suoi risultati. Adesso ha raggiunto questo bellissimo traguardo di poter guidare una Ferrari. Speriamo che gli sia di auspicio per tentare qualche scalata importante. La giornata è fantastica perché a parte Sergio, anche un altro giovane ragazzo, ha avuto l'opportunità di avere queste sensazioni che poi sono utilissime per capire a che cosa si va incontro se un giorno si arrivasse a correre in Formula 1. È un'iniziativa che ormai mi pare da qualche anno che c'è ed è molto, molto positiva. Perché magari ci fossero state ai miei tempi. Noi dovevamo fare tutto un po' più da autodidatti, con un po' più di fortuna. Ma vabbè, forse il talento era sempre molto importante. Comunque, insomma, dovevi arrangiarti un pochino più da solo. Sì, oddio, avevo vinto un mondiale kart, ho vinto un europeo di Formula 3, poi mi sono presentato brillantemente in Formula 2 e qualcuno si è accorto che esistevo. Quindi, diciamo che ho avuto dalla mia anche un po' i risultati che mi hanno aiutato parecchio a lanciarmi poi per arrivare in Formula 1. È diventato più facile, penso, passare da un Formula 3 a un Formula 1 di quello che poteva essere 30 anni fa. Perché credo che le macchine, le Formula 1 di adesso, pur essendo estremamente veloci, sicuramente non facili, però danno la possibilità anche a piloti non con tanta esperienza di fare il salto quasi immediato. Cosa che invece, ai miei tempi, dovevi trovare il team manager che investiva un po' su di te perché sapeva che se arrivavi a guidare un Formula 1 avresti creato dei problemi, tipo danni economici, danni... E poi era anche più pericoloso, penso, perché le macchine erano più pericolose, i circuiti erano più pericolosi. Quindi dovevi trovare qualcuno che investiva su di te perché pensava che tu potevi restituirgli qualcosa. Adesso invece credo che ragazzi anche con un'esperienza limitata riescano a guidare dei Formula 1 senza fare dei grossi danni, dei grossi problemi, un po' perché le macchine sono, diciamo così, performanti ma nello stesso tempo un po' più confortevoli, credo, un po' anche perché i circuiti sono decisamente a un livello di sicurezza maggiore. Sì, è una cosa che era auspicabile prima, adesso c'è e quindi è molto positiva e deve continuare. Spero che questo programma che hanno impostato alla Ferrari di allevare giovani talenti continui nel tempo e soprattutto che poi alla fine è veramente, poi si veda perché per il momento non si è ancora visto un giovane talento che è arrivato alla Ferrari o anche portato poi avanti a livelli di grosse categorie. Io credo che sia molto importante e speriamo che poi dopo ci sia anche un travaso e in squadra Ferrari possono arrivare i giovani talenti, i possibiliti italiani perché qui siamo un pochino nazionalisti quindi speriamo che siano dei talenti italiani che arrivino alla Ferrari. È difficile dire perché una volta eravamo in tanti e adesso siamo pochi in Formula 1. Senz'altro avevamo anche una spinta economica notevole, allora c'era molta spinta da parte degli sponsor che aiutavano i piloti italiani a trovare posti in Formula 1, poi ci sono dei corsi e ricorsi storici una volta non c'era neanche un tedesco, adesso ci sono i tedeschi che sono fortissimi, Schumacher prima, Vettel adesso francesi non ce ne sono proprio e una volta i francesi invece erano molto importanti in Formula 1 quindi speriamo che comunque sia un periodo transitorio e che adesso si torni ad avere degli italiani io credo che i giovani in questi anni anche qui a livello di campionato di Formula 3, test in Ferrari qualche giovane valido sia venuto fuori, poi magari non sia ancora legato al treno della Formula 1 però anche nelle altre categorie ha fatto qualcosa di buono, speriamo che a un certo punto ci siano anche dei piloti giovani che si agganciano al treno della Formula 1 perché poi quello è il palcoscenico più ambito, più visto, però se andiamo un po' in giro nelle varie categorie di italiani buoni ce ne sono sono parte perché se voi avete visto io quando ho smesso correre non è che sia stato mai molto presente nel mondo delle corse, in effetti faccio tutta un'altra vita, mi sono appassionato ai cavalli, all'equitazione salto con i cavalli anch'io, ho vinto il campionato italiano amatori non più di un mese fa per cui sono più legato a quello che poi mi hanno introdotto come passione le mie figlie e adesso sono coinvolto anch'io, per cui diciamo che come interesse primario c'ho questo che mi piace l'equitazione, poi chiaro i gara premi li guardo, quando ci sono stati i GP Masters degli over 45 mi è piaciuto partecipare perché ho una passione ancora per lo sport però mi sono reso conto che mi piaceva guidare io, cioè sono io che mi siedo al volante, mi piace molto e ci provo molto gusto, poi magari guardare gli altri li guardo però come ho detto se mi si sono introdotte altre varianti e quindi trovo gusto anche a fare anche qualche cos'altro.